Gentili telespettatori, buona giornata. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronto a bloccare la nuova legge del governo Meloni, rimandarla indietro per incostituzionalità. Anche per quanto riguarda la pressione dei giudici, si parla della Corte dei Conti, quindi la diatriba tra governo e Corte dei Conti. Rischia di essere messo nero su bianco il decreto rimandato indietro alle Camere. Il Presidente della Repubblica, dicono, è in grave imbarazzo nel braccio di ferro tra il governo e la Corte dei Conti. A soffiare è anche Giulio Amato, il dottor sottile della Prima Repubblica, ex Presidente della Consulta. Dice che stanno lavorando anche di notte negli uffici di Daniele Cabras, direttore degli affari giuridici del Colle, per trovare una via ad uscita al governo che si è impantanato su un emendamento fortemente voluto dal gabinetto del Ministro Fitto, piuttosto che dalla Meloni, e inserito nel decreto legge sulla pubblica amministrazione. Tale modifica, passata come sempre più spesso accade, con il ricorso al voto di fiducia, di fatto blocca la Corte dei Conti nel suo ruolo di controllore costante delle opere del PNRR, disattendendo anche la decisione della Comunità Europea che risale al 2019 sotto il governo Conte che aveva comportato l'affidamento proprio alla Corte dei Conti della verifica sullo stato di avanzamento nell'uso delle risorse. E ora per appunto la Presidenza della Repubblica, gli uffici che controllano la legittimità della legge, è in forte imbarazzo perché non sa come uscire da questo impasse, perché non vorrebbero costringere il Presidente della Repubblica a bloccare il decreto per incostituzionalità, perché di fatto dicendo che è incostituzionale metterebbe poi il governo in una cattiva luce di fronte al Paese, di fronte all'opposizione, perché una legge che torna indietro per incostituzionalità è una cosa grave. Di solito Mattarella se manda indietro qualche legge lo fa dicendo allora dovete rivedere qui, dovete rivedere questa parte, ma non parla mai di incostituzionalità, sono degli aggiustamenti sulla legge, ma rimandarla indietro perché tutta la legge non va bene per incostituzionalità, insomma andrebbe a creare un duro colpo al governo. Pertanto si sta aspettando a momenti il risponso su proprio questa legge della Corte dei Conti. Peraltro non bisogna sottovalutare la durissima presa di posizione del Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, che smentendo il provvedimento della Meloni ha tuonato che i controlli vanno eseguiti anche in corso di esercizio e non solo alla fine, perché dice se io faccio il controllo alla fine quando il PNRR è già andato male, è già andato male, se invece i controlli si fanno durante noi possiamo chiamare il governo all'attenzione su quello che sta succedendo, ma dice la Corte dei Conti il governo non vuole che qualcuno gli dica che le cose non stanno andando bene. Il governo dice ma anche Draghi aveva fatto la stessa cosa. Tra Mattarella e Carlino c'è una totale sintonia, quindi Mattarella che è d'accordo con il Presidente della Corte dei Conti che i controlli ci debbano essere anche a metà, si trova nella condizione di dar retta alla Corte dei Conti come lui crede sia corretto oppure fermare il provvedimento per incostituzionalità e rimandarlo indietro come non praticabile. Provocherebbe comunque dei seri problemi al governo che verrebbe delegittimato dal Presidente del Consiglio facendo fare anche in Europa una figura tremenda dove il governo fa delle cose contro la Costituzione e aizzerebbe ovviamente la minoranza italiana dei partiti di opposizione che salterebbe sulla sedia dicendo avevamo ragione, sono loro, sono tornati. Quindi adesso vedremo se il provvedimento del governo che ha prodotto una spaccatura all'interno della Corte dei Conti, vedremo anche il Procuratore Generale Angelo Canale che viene dall'amministrazione penitenziaria perché il punto è questo, non è Mattarella lui che legge un decreto e decide, c'è un ufficio che si occupa proprio di validare ogni legge, di vedere se ogni legge è aderente a quelli che sono i dettami della Costituzione. Quindi Mattarella riceve uno scritto dove i suoi uffici, quelli del Quirinale, dicono sì la legge va bene, può andare avanti oppure la legge non può essere accettata. Quindi adesso Mattarella si troverà con questo problema se arriverà una carta con scritto incostituzionale. Naturalmente ovviamente ci sono dei problemi del PNRR, se no non sarebbe venuto fuori tutto questo. Siamo in ritardo, il PNRR dovrebbe essere modificato, devono mandarci ancora la seconda e la terza rata, forse la quarta. Ecco c'è una rata quella di dicembre che non è stata pagata, quella di maggio non è stata ancora pagata. Sostanzialmente i finanziamenti al nostro paese sono stati bloccati. È stato sospeso il PNRR per l'Italia, i soldi non stanno più arrivando perché l'Italia deve dimostrare di aver raggiunto certi obiettivi che non ha raggiunto. Quindi diciamo che sul PNRR siamo messi abbastanza maluccio, ma questa non è colpa del governo Meloni perché l'Italia storicamente non è in grado di spendere i soldi che arrivano dall'Europa. Questa è la realtà, non è in grado. I soldi che arrivano dall'Europa li abbiamo sempre quasi tutti rimandati indietro perché non siamo capaci a spenderlo. E con questo vi dico, secondo voi adesso siamo capaci a spendere 200 miliardi in alcuni anni? Assolutamente no. Assolutamente no perché è un problema proprio strutturale del paese, non è un problema di volontà. Non lo vogliono fare. No, non c'entra niente un problema di volontà. È proprio un problema di incapacità delle amministrazioni periferiche di portare avanti i progetti e di cominciarli. Grazie a tutti e arrivederci.